partiti scattolino si porta subito in vantaggio nei confronti di Erten quindi Lady of Charlotte con all'interno Funky Girl segue Ryle Hand ancora Richitea brava Laura ed in coda si mantiene Larice da Fogliano Cavalli ora ben riuniti all'imbocco della curva di fondo con scattolino e Lady of Charlotte apparigliati al comando in terza posizione all'esterno risale brava Laura che ha all'interno Funky Girl seguono Erten quindi Ryle Hand Larice da Fogliano e Richitea Cavalli all'ingresso in retta d'arrivo scattolino sempre in vantaggio nei confronti di Lady of Charlotte per linee interne cerca il barco Erten mentre a largo si propone ora bene brava Laura seguono anche Funky Girl poi all'esterno anche Richitea è passata brava Laura nei confronti di Erten lungo la corda Lady of Charlotte a largo avanza anche Richitea siamo nel tratto conclusivo brava Laura sta prendendo nettamente da meglio nei confronti di Richitea che ci prova a largo del finale è brava Laura che si impone nettamente davanti a Richitea al terzo posto Erten davanti a Lady of Charlotte andiamo a rivedere le immagini di questa seconda corsa di Napoli con la favorita a bersaglio numero uno dello schieramento brava Laura Castrese Felago il trainer Gabriele Bitolini il Fantino numero uno alla seconda di Napoli si allunga e stacca per imporsi nettamente mentre dalle retrovie Richitea con il numero sette è venuta a cogliere un buon secondo posto davanti al tre di Erten quindi uno sette tre il probabile ed ufficioso arrivo della seconda di Napoli grazie a tutti Grazie a tutti.